Ho riferito della posizione del Partito Democratico in questa delicata crisi, riferito sull'esito della direzione del Partito, che come sapete, aperta con un ringraziamento sentito al Presidente Letta per il suo lavoro positivo per il nostro Paese, ha poi indicato la volontà del Partito Democratico di un impegno forte per un governo che completi la legislatura, che vada quindi verso il 2018.